Dal Vangelo secondo Luca Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortole o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Una buona festa a tutti. Trascorso meno di un mese dall'Epifania, la festa che ha chiuso il tempo del Natale, ricordiamo che Matteo ci ha raccontato la fuga in Egitto della Santa Famiglia e poi l'ingresso nella terra di Israele. Questo è stato ciò che ci ha raccontato Matteo a conclusione del tempo natalizio. Luca conclude i racconti del Natale facendo riferimento all'osservanza di due prescrizioni della legge di Israele da parte della Santa Famiglia. Le prescrizioni erano la purificazione della madre che aveva dato alla luce un figlio maschio e poi il riscatto del figlio primogenito. si tratta di due usanze giudaiche diverse, ma Luca le ha accostate perché dal comportamento dei genitori di Gesù vuole ricavare alcuni messaggi per noi oggi. Quali sono? Anzitutto, dalla lettura del testo evangelico avremo notato una specie di ritornello che è tornato per ben tre volte che è l'osservanza della legge del Signore. È stato detto che la famiglia è andata a Gerusalemme perché la madre doveva purificarsi secondo la legge di Mosè, poi hanno portato il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore, e poi hanno offerto un paio di colombe come prescrive la legge del Signore. Tre volte verrà richiamato questo ritornello, altre due volte in seguito lo sentiremo. C'è già un messaggio per noi oggi. La famiglia di Nazareth la vediamo sintonizzata sulla parola di Dio. Ciò che il Signore indica come cammino della vita di una famiglia e la famiglia di Nazareth è in sintonia con questa parola. Forse nelle nostre famiglie ci preoccupiamo di tante cose. Proviamo a interrogarci se vogliamo davvero che le nostre famiglie siano belle come è stata quella di Nazareth, pur nella povertà, con tanti problemi come tutte le famiglie hanno. Eppure noi la ricordiamo come una famiglia serena, perché ha seguito fin dall'inizio sempre la parola di Dio. Il secondo messaggio lo ricaviamo dal motivo per cui portano il bambino al Tempio per offrirlo al Signore. Messaggio importante. Il figlio non è loro, è di Dio, non possono tenerlo per sé. È la tentazione che i genitori hanno e che anche la famiglia di Nazareth ha avuto, perché anche loro sono stati tentati. È stato tentato Gesù, Maria, Giuseppe, anche loro sono stati tentati. Qual è la tentazione che i genitori hanno? È quello di servirsi del figlio per realizzare i loro progetti, i loro sogni. La famiglia di Nazareth lo consegna al Signore, lo inseriscono nel progetto di Dio, nei disegni di Dio, e questi disegni possono essere molto diversi da quello che i genitori hanno. Il figlio non appartiene ai genitori, è affidato ai genitori affinché lo facciano crescere e lo inseriscano nel progetto che il Padre del Cielo ha su di lui. Anche la famiglia di Nazareth, che aveva questo figlio con delle grandi capacità, non si vedeva che fin da piccolo era colmo di doti, forse anche loro, avendo assimilato dalla tradizione, dal messaggio che era stato dato loro nella catechesi della sinagoga, il Messia glorioso, forse coltivavano anche loro questi sogni. No, lo hanno affidato fin dall'inizio al progetto che il Padre del Cielo aveva su di lui. Questo è un messaggio importante per i genitori delle nostre famiglie oggi, affidare i loro figli al Signore perché i figli sono del Signore. Terzo messaggio. Luca accenna all'offerta per il riscatto del bambino. Poteva essere di un agnello per le famiglie benestanti, oppure di due colombe. Si nota che la famiglia di Nazareth ha offerto due colombe. Il figlio di Dio non è nato a Roma sul Palatino dove risiedeva l'imperatore, ma fra i poveri. Ed è cresciuto in una famiglia povera. Questo ce lo fa sentire il figlio di Dio venuto tra noi molto vicino. E a questo punto entrano in scena due personaggi sui quali Luca vuole attirare la nostra attenzione. Vediamo il primo, il vecchio Simeone. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accorse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli. Luce per riverarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». La tradizione si è molto affezionata al vecchio Simeone. Gli apocrifi raccontano tante storie su di lui, dicono per esempio che lui aveva 112 anni e poi dicono anche che era lui il sommo sacerdote che aveva accolto la santa famiglia e aveva preso fra le braccia a Gesù che gli era stato consegnato. No, non era sacerdote Simeone, era un uomo carico di anni che era vissuto coltivando nel proprio cuore la certezza che un giorno Dio avrebbe realizzato le sue promesse. E la sua vecchiaia rappresenta proprio questa lunga attesa del popolo di Israele. Israele è un popolo che ricorda, ricorda le promesse che Dio ha fatto ad Abramo, ricorda le profezie che avevano annunciato, la venuta del Messia, la consolazione di Israele e anche quando la storia sembrava smentire la parola del Signore, Israele ha sempre continuato a credere che un giorno Dio avrebbe realizzato le sue promesse e Simeone rappresenta con la sua vecchiaia proprio questo popolo che attende. Nella spianata del Tempio c'era un'infinità di gente. Come mai solo questi due vecchi sanno riconoscere in un neonato fragile e debole il Messia di Dio? Sono due persone che vedono al di là delle apparenze. Tutta la gente ha visto un bambino tra le braccia di Maria con accanto il papà Giuseppe. Ha visto solo questo. I due anziani invece hanno riconosciuto in quel bambino il Messia promesso e atteso. Cosa avevano di caratteristico questi due? Vediamo Simeone. Dice il testo, era giusto e pio. Due aggettivi. Il primo, giusto, dicaios, come Giuseppe. Persona retta, col cuore puro, non inquinato dalla menzogna dalle passioni, dai propri interessi, ma dalla ricerca della verità. E poi era pio eulebes in greco. Vuol dire tento non andare fuori strada, di seguire sempre il cammino che gli era indicato dalla parola di Dio, non come coloro che di tanto in tanto si interessano anche al Signore. No, sono coloro che lo ascoltano quando anche il Signore è d'accordo con quello che loro pensano. No, Simeone ha sempre sintonizzato i suoi pensieri, il suo cuore sulla parola del Signore e quindi ha potuto vedere ciò che gli occhi delle altre persone nella spianata del Tempio non riuscivano a vedere. Sono quegli occhi puri che Gesù chiamerà beati, i puri di cuore che riescono a vedere Dio, che riescono a vedere l'invisibile, vedono al di là di ciò che appare. Questo è possibile soltanto a coloro che sono giusti e pigli. Seconda caratteristica di questo Simeone attendeva la consolazione di Israele, è vissuto nella certezza che le promesse di Dio si sarebbero realizzate e quando uno coltiva questa certezza e si fida nel Signore è una persona libera, serena, perché sa che chi conduce la storia è il Signore. Anche quando le apparenze sembrano smentire queste promesse, se lui crede davvero nel Signore è una persona serena ed è libera, non dipende da lui. Oggi possiamo fare una riflessione sulla nostra situazione ecclesiale. Ci sono dei dati impietosi sulle difficoltà che sta attraversando la nostra Chiesa. Ci sono abbandoni, scandali, disinteresse. Proviamo a chiederci. Siamo come Simeone che crede nella parola del Signore che ci ha detto le porte degli inferi non prevarranno, io sono con voi fino alla fine dei secoli, i cieli e la terra passeranno, le mie parole non passeranno. Crediamo noi come ha creduto Simeone fermamente che queste promesse si realizzeranno. Se noi ci crediamo saremo persone libere, serene come lo era Simeone. L'attesa non è però come quella di chi aspetta l'autobus passiva, no, ma come di chi si gioca la vita su queste promesse fatte da Dio, punta la sua esistenza sulla proposta di mondo nuovo che lui fa e si impegna con lui a costruirlo. Terza caratteristica di Simeone. Lo Spirito Santo era su di lui e questa parola Spirito ritorna per tre volte. Il numero tre significa che è completo, totale. È l'uomo pieno, pienamente coinvolto da questo Spirito. Si è sempre lasciato guidare dallo Spirito che è stato il suo confidente, è con lui che si è sempre consigliato per tutta la vita e lo Spirito Santo gli aveva fatto capire che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. È lo Spirito che lo ha fatto guardare avanti. È bello questo vecchio che non guarda indietro, guarda avanti. Al passato si guarda, ma senza rimpianti, quando si è vissuto illuminati e condotti dallo Spirito. Simeone non vuole tornare giovane perché ha portato a compimento la sua vita, che ha avuto un senso e quindi non brontola per il male che vede attorno, non dà la colpa al mondo della sua vecchiaia per il fatto che non prova più i gusti dei giovani. Non gli piace più la musica dei giovani e quindi brontola, no. Non è colpa del mondo, è lui che è vecchio. I giovani vadano avanti. Lui ha vissuto, è contento della sua vita e sa che gli acciacchi fanno parte della condizione umana e quando la vita avvolge al tramonto... Certo, se la giovinezza, la prestanza fisica, la forza, la salute sono state idolatrate, sono state l'unico obiettivo della propria esistenza, allora non ci si rassegna che affievoliscano e poi scompaiano anche. Simeone no, sa che la vita ha la sua parabola e poi si va verso l'autunno, verso il tramonto e quando la vita è stata vissuta come la vissuta Simeone ha guidata dallo Spirito c'è questa serenità e questa libertà, la gioia di essere vissuti. E mosso dallo Spirito accoglie tra le braccia il bambino, è un abbraccio commovente questo, tra il vecchio e il nuovo, tra Israele e la Chiesa. Ci potremmo anche chiedere se appartiene all'Antico o al Nuovo Testamento questo Simeone. Lui ci indica che per poter consegnare Cristo bisogna prima accoglierlo tra le braccia e lui lo consegnerà al mondo, lo sentiremo nel suo canto quando lui benedice Dio ed è il quinto canto che noi troviamo già in questi primi due capitoli di Luca, c'è il gloria a Dio nell'alto dei cieli, il canto di Elisabetta, il magnifica del benedictus e poi adesso il canto di Simeone. E che cosa dice questo canto? Lascia che il tuo servo vada in pace. Il testo originale è molto bello, dice sciogli, apollueis, sciogli il tuo servo, vuol dire congedalo, lascialo libero, lascialo andare. Non ha paura della morte, perché la morte, per chi è vissuto come Simeone, è il momento che dà il senso a tutta la vita. La morte è un essere sciolti dai legami del corruttibile, sciogli il tuo servo, lascialo andare verso la pace. È l'ora della libertà, è il momento dell'emancipazione e va verso la pace. È la conclusione di una vita che ha avuto un senso perché è stata illuminata da quel bambino. È la serenità della morte vissuta alla luce della pace messianica. Il richiamo potrebbe essere alla lettera a Timoteo di Paolo quando dice è giunto per me il momento di sciogliere le vele. La morte è vista come uno sciogliere le vele per partire verso nuovi meravigliosi lidi. Abbiamo conosciuto persone cui la pensione ha portato o accelerato la morte. Per i vecchi della Bibbia, come Simeone, la morte è la pensione e queste vecchiaie ci insegnano a vivere. E poi si presenta come servo. Sciogli il tuo servo, lascialo andare verso la pace e servo significa che ha dedicato tutta la sua vita al disegno di Dio. Tutta la vita è stata spesa per realizzare la missione alla quale Dio lo aveva destinato. Simeone ha saputo aspettare, non si è lasciato prendere dall'impazienza perché era certo della fedeltà di Dio e quindi Simeone ha chiuso gli occhi pieni di futuro perché la sua vita ha avuto un senso è stata vissuta per una missione e dice luce preparata davanti a tutti i popoli. Significa la dimensione universale della missione a cui è destinato questo bambino. Notiamo come Simeone non è egoista, non pensa a se stesso ma agli altri, all'umanità intera. È la gioia di sapere che questo bambino sarà luce non solo per il popolo di Israele ma luce davanti a tutti i popoli. Gesù non appartiene più soltanto al suo popoli. E ascoltiamo adesso la misteriosa profezia della spada fatta da Simeone. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse ecco egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Come mai Giuseppe e Maria si stupiscono di ciò che Simeone dice di loro figlio. Non è la prima volta che i due genitori si meravigliano già quando i pastori hanno riferito la loro esperienza del messaggio ricevuto dagli angeli si sono stupiti tutti. Come mai questo stupore? Beh, chiaro. La catechesi che avevano assimilato è che il Messia sarebbe venuto e sarebbe stato dalla parte dei buoni, dei giusti. Invece qui il messaggio venuto dagli angeli del cielo era che per loro, per i pastori, per la gente impura e marginata, per loro era nato il Salvatore. Era un annuncio di gioia. Loro si erano spaventati quando hanno visto la luce. No, non spaventatevi, vi annuncio una grande gioia. Sta dalla vostra parte. Questa è stata la prima sorpresa che viene notata dall'Evangelista Luca. E qui c'è una seconda sorpresa sulle parole che sono state pronunciate da Simeone. Luce per tutte le genti, non solo per i peccatori, ma per tutti i popoli pagani lui sarebbe stato la luce. In Israele ci si aspettava il Messia come luce per il popolo. Avrebbe portato questo popolo a dominare su tutti i popoli del mondo. No, qui era luce di salvezza per ogni uomo. Seconda sorpresa, quindi, è che i due genitori hanno avuto. Era contro tutta la tradizione che avevano assimilato nelle sinagoghe e nella catechesi dei rabbini. Poi Simeone c'è una seconda benedizione. Questa volta benedice i due genitori e parlando di Maria viene notato la madre, lo sapevamo. Come mai ci insiste su questo termine madre? Il riferimento è alla madre Israele che doveva consegnare al mondo il Messia di Dio. Quindi Maria diventa il simbolo di questo popolo che consegna al mondo il Messia. E poi viene la profezia della spada. Dice Simeone a Maria una spada trapasserà, attraverserà la tua stessa vita. Che profezia è questa? Beh, lasciamo perdere le sette spade dei quadri della Madonna addolorata. Non c'entra assolutamente nulla, non è il riferimento al dolore di Maria ai piedi della croce, no. E qui potrebbe essere Maria vista come il popolo di Israele. La spada indica nel simbolismo che troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento la parola del Signore. La lettera agli ebrei al capitolo 4 dice la parola di Dio è viva ed efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio. Dove arriva questa parola? Lì c'è una ferita, c'è una divisione. Bene, Maria nelle parole di Simeone potrebbe essere intesa come quella che rappresenta il popolo di Israele. E la parola di suo figlio, del Messia, creerà una divisione in questo popolo. Lo dirà anche Gesù quando nella sua vita pubblica prenderà atto che non tutti nel suo popolo hanno accolto il messaggio e dirà, creerà divisione. Non sono venuto a portare la pace ma la divisione. Saranno due contro tre, tre contro due nella stessa famiglia. E' ciò che è successo in Israele. Qualcuno ha accolto questo Messia di Dio, qualche altro invece non l'ha accettato, non era questo il Messia che si aspettava, che si attendeva. Ma potrebbe trattarsi di un'altra divisione, non in Maria come simbolo di questo popolo. Ma in Maria come persona anche lei ha sperimentato nella propria anima, nel cammino di fede che ha fatto, la ferita. E questa parola di suo figlio anche in lei ha creato una divisione rispetto alla catechesi che aveva ricevuto. E' stata attraversata tutta la sua vita da questa parola e l'adesione a questa parola non è stata neanche per Maria facile e immediata. Basta pensare a ciò che ci dice l'Evangelista Marco. Quando Gesù ha iniziato la vita pubblica è entrato immediatamente in conflitto con l'autorità religiosa e con la catechesi dei rabbini. E quando a Nazareth sono arrivate queste notizie preoccupanti hanno pensato di andare a riprendersi Gesù per riportarlo a Nazareth, tirarlo fuori dai pestici in cui rischiava di mettersi. Nota l'Evangelista Marco, i familiari che sono andati a prenderlo e Maria con loro dicevano ma è impazzito e volevano riportarlo nel loro paese. Ecco la difficoltà che anche Maria ha avuto nell'accogliere questa parola. Poi lei ha sempre dato la propria adesione, quella beata fra coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ma non pensiamo che per lei sia stato tutto facile, tutto chiaro fin dall'inizio, no. La dobbiamo vedere Maria come la nostra compagna nel cammino di fede e in in questa accoglienza della parola del Signore che non sempre è immediatamente chiara ai nostri occhi. E ora l'arrivo di Anna, questa donna vecchia e può sembrare superfluo questo brano del Vangelo secondo Luca perché è già stato detto tutto da Simeone. In realtà la presenza di questa donna non è inutile perché svolge il ruolo di secondo testimone che conferma la testimonianza di Simeone sul bambino. Ascoltiamo. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazare. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui. Viene notato che questa profetessa, Anna, appartiene alla tribù di Aser. Una delle dodici tribù era particolarmente benestante perché si era installata al nord, nella fertile regione vicina al Mediterraneo, quella parte di Israele che si trova fra Haifa e Acco. Era comunque la più piccola delle tribù, la più insignificante e poi con le benedizioni materiali erano venute le tentazioni del paganesimo e aveva finito per adattarsi ai costumi dei popoli vicini e quindi ben presto era scomparsa dalla scena. Quando sono arrivati gli assiri hanno deportato questa tribù, non è rimasto più nulla e è uscita per sempre dalle pagine della storia. Ecco però, nel Tempio di Gerusalemme compare una della tribù di Hazer e il piccolo resto di una tribù infedele. Questo punto cogliamo facilmente i richiami simbolici impiegati dall'Evangelista Lucca. Da Osea in avanti, Israele e Gerusalemme è stata presentata come la sposa del Signore, quasi sempre infedele. In questo popolo c'è un resto che è fedele ed è rappresentato da questa profetessa Anna, che ha 84 anni. Il numero è chiaramente simbolico, è il risultato di 7 per 12. 7 è la perfezione, 12 è il popolo di Israele. Anna rappresenta questo popolo che è giunto alla completezza della sua missione. Anna è quella parte fedele del popolo che ha saputo attendere il Messia e accogliere non il Messia che avrebbe desiderato, ma il Messia del Signore. C'è un messaggio importante per noi oggi ed è quello che riguarda l'amore responsabile con il Signore. Il Signore non è un datore di lavoro che poi ci paga alla fine della vita, no, è lo sposo e ama gratuitamente e si aspetta un coinvolgimento d'amore nei suoi confronti. E rimanere fedeli a questo amore per un momento è molto facile, ma mantenere questa fedeltà allora è più difficile. Anna rappresenta quel resto che è rimasto fedele, anche quando tutti gli altri hanno lasciato il Signore. Anna rappresenta quella parte del popolo di Israele che è stata una sposa fedele. Quando gli altri hanno abbandonato lo sposo lei non si è fatta amanti, è rimasta fedele al suo sposo. È un messaggio importante per la nostra vita spirituale di oggi. Vediamo tante persone anche che lasciano la Chiesa, che già non seguono più quello che ci indica il Vangelo. Ecco, in questa situazione noi possiamo guardare a questa figura della sposa fedele che è stata Anna. Auguro a tutti una buona festa!